Ci siamo ragazzi, siamo partiti da casa mia, da medicina. Abbiamo viaggiato per l'Emilia e per il Veneto. Ferrara, Vicenza, Chioggia, Venezia e finalmente siamo arrivati a Treviso, la patria di Sgambaro. La pasta Sgambaro nasce nei campi del centro Italia e della Puglia, ma è qui che diventa grande grazie al lavoro dei maestri Mugnai e Pastai. Oggi faremo dei fusilli con pesto di radicchio rosso, simbolo di Treviso e per dare un tocco di Mediterraneo faremo anche una scappice di zucchini con l'aceto di lamponi e menta, un piatto dove c'è tutta l'Italia, nord, centro e sud. Allora, per prima cosa prepariamo il pesto con il radicchio rosso. Taglio il radicchio così, va marinato, un po' di olio, un po' di pepe e lo facciamo andare in padella. Un altro radicchio, tolgo solo le foglie iniziali, le metto qua, aggiungo un po' di pinoli, un pizzico di sale, uno spicchiettino piccolo di aglio, un po' di pecorino. Questa è una pasta che si mangia a temperatura ambiente e si sposa benissimo con i fusilli. Preparo le guarnizioni, polvere di barbabietole, polvere di curcuma, pomodori secchi, dell'olio e i colori sono pronti. Taglio questa parte, che metto qua, ok, metto l'olio, un goccino di acqua. Perfetto. Prendiamo i fusilli. La pasta viene cotta, poi viene versata in questa bowl dove io ho preparato in precedenza lo scapece di zucchine. Bisogna tagliare rondelle delle zucchine di circa 2 mm. Vanno messe su un canovaccio e vanno lasciate lì per due o tre giorni, devono asciugare. Quando si sono asciugate vanno buttate nell'olio bollente, vanno fritte. Questo è il risultato finale. Le metto qua. Mettiamo un po' di menta, aggiungo un pochino di aceto, di lamponi. Metto un po' di pepe. Condimento pronto. Non mi resta che preparare la guarnizione. Colpo di rosso con la barbabietola. Poi giallo, rosso intenso, quasi bordeaux. Metto a tostare due pinoli. Siamo pronti per impiattare. un pochino di pecorino. Un filino di olio. Facciamo una piccola guarnizione verde qua. Questo rosso di treviso così. Ecco, il piatto è terminato. Voilà! Buon appetito ragazzi e grazie di aver viaggiato insieme a me e Pasta Sgambaro.